Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Pontestella al Borgo a Casale sul Sile. Bentrovati al meteo. L'anticiclone nordafricano si consolida in maniera più decisa sull'Italia. L'ondata di caldo si fa via via più intensa. Vediamo il dettaglio di venerdì 20 maggio. Sul Veneto avremo una giornata di sole pieno come vediamo. Il cielo infatti si presenterà sereno o velato. Non si esclude la consueta variabilità pomeridiana sui rilievi e sulla pedemontana. Temperature in aumento con valori estivi minime tra 11 e 20 gradi. Massime comprese invece tra i 24 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tempo buono con un ampio soleggiamento e con il cielo che si presenterà. Sgombro da nubi. Temperature minime tra i 12 e i 18 gradi. Massime sui 26-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Tanto sole ovunque anche qui con qualche nube alta ma innocua. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi. Massime sui 31-32 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Siamo aperti. Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Pontestella Alborgo a Casale sul Sile.